Da Lai Lama, le chiedo scusa per l'ora tarda. Parto domani. Sì, lo so. Come è stata la sua permanenza? Molto interessante. Le vostre fabbriche sono impressionanti. E ho gradito molto... Lei ha tanto da imparare. Come cavare le opinioni dalla gente e prendere decisioni. Istruisca i suoi giovani tibetani. Quando mi metterò in contatto con lei voglio farlo per mezzo di un tibetano e non di un cinese. Molto bene. Concordo con alcune delle sue idee. Per anni abbiamo riformato i nostri monasteri e riorganizzato... Il suo atteggiamento è giusto. Lo sa? Io la capisco bene. Ma deve imparare una cosa. La religione è veleno. Veleno. Come un veleno indebolisce la razza. Come una droga ritarda la mente delle persone e della società. L'oppio dei popoli. Il tibet è stato avvelenato dalla religione. E il suo popolo è avvelenato e inferiore. L'accompagno alla sua macchina. L'accompagno alla sua macchina. Non possiamo persuaderla a restare a Pechino? Devo tornare. Se riguardi la salute, mi scriva spesso.